Buonasera a tutti, grazie di essere qui, buonasera Massimo, grazie anche a te di aver accettato l'invito anche quest'anno, tanto è vero che anche l'anno scorso Massimo Carlotta è stato nostro ospite allo Sharebooks come uno dei promotori di un appello che è stato scritto e sottofirmato da diversi esponenti del mondo dell'arte, della scultura e dello spettacolo a sostegno dei lavoratori di Grafica Veneta. Invece quest'anno ci ritroviamo qui in veste di scrittore per presentare il suo ultimo romanzo Youthless, fiori di strada, che è stato scritto a dieci mani da cinque grandi penne della letteratura italiana. Le cito perché mi sembra anche corretto, parliamo di Alessandra Acciai, Massimo Torre, Patrizia Rinaldi, Massimo Carlotta appunto e Pasquale Ruiu. Youthless, fiori di strada è un noir sulla speranza, sul dolore ma anche sulla forza dell'amicizia. Ecco adesso non ti chiederò come scrivere un libro a dieci mani, che è una domanda che ti hanno fatto molto spesso ma perché anche ascoltando un tuo podcast dichiaravi che sostanzialmente potreste scrivere un brevetto su come si fa a scrivere con comitanza di diverse persone e magari non è il caso di svelarlo alla platea. Parliamo invece di quelle che sono le cose che testano i fili di questa trama, che sono principalmente tutti questi personaggi, straordinari personaggi femminili nel bene e nel male. Ci sono Claudia e Anna, due sorelle che si scontrano con il cosiddetto padre padrone, c'è Domitilla che viene da una buona famiglia e ha un problema di dipendenza dalle sostanze, c'è Lia che è una ragazza francese attivista dei centri sociali, poi c'è Rashida che è una ragazza senegalese un po' in conflitto con quelle che sono le sue origini e per finire Teresa. Teresa è nata e cresciuta in una famiglia affiliata all'Andrangheta. Sono tutte ragazze che scappano da delle storie difficili e sono braccate da un altro straordinario personaggio, da una terribile aguzzina, Giustina Raperin. C'è anche una giornalista coraggiosa, ecco diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per la struttura della trama di Un Noir. Ma secondo me dal mio punto di vista catturare davvero l'attenzione è il vero tema del libro, che è questo dei giovani e delle giovani che però nascono e crescono senza gioventù, che attraversano una vita in trasparenza e sono tradite da un mondo adulto che non le sa vedere, non sa leggere i giovani di oggi. E partirei con la prima domanda, appunto dicendo come questi giovani si muovono tra queste strade sconosciute, tra i boschi, arrivano quasi a toccare il mare del nostro paese. Però al di là dei motivi che spingono questi adolescenti alla fuga c'è un problema generale ed è quello dei giovani dei giorni nostri che non sono soltanto ignorati dalla politica e dalle istituzioni, ma avevano un costante senso di ansia verso il presente, ma soprattutto verso il futuro. Quella che troviamo adesso è forse la generazione di giovani e adolescenti più incerta che si ricordi nella storia del nostro paese. Sono i giovani che hanno dovuto confrontarsi con il Covid e la ripresa nel post-pandemia. Mi piace pensare a questo romanzo come anche un romanzo on the road, come un'odissea degli anni del 2020, con la differenza che però se nel racconto classico abbiamo Ulisse, che compie tutta una serie di gesta insieme ai suoi compagni per il raggiungimento di un lieto fine. In questo caso il viaggio di queste ragazze che parte dalle campagne del Veneto, arriva alla bassa ferrarese fino al sud d'Italia, è costellato da una serie di intoppi e forse anche da una serie di leggerezze determinate dall'esperienza che queste ragazze compiono. Secondo me c'è proprio una reinterpretazione del viaggio. Appunto vorrei chiedere a Massimo, e mi scuso per aver parlato così a lungo, ma volevo un po' tracciare i dati più salienti di questo libro. Volevo chiederti che Italia raccontate. Innanzitutto ciao a tutti e a tutti. Grazie di questo invito. Io ho giurato, e stragiurato anche pubblicamente, che nel 2023 non avrei mai fatto eventi pubblici, infatti sono qua, e ritornerò anche, ma farò solo qui al pedo, con il prossimo fumetto pubblicato da Becco Giallo sulla vicenda appunto di Grafica Venta, quindi ci diamo già un appuntamento futuro. Allora, innanzitutto questo romanzo è un romanzo, non sono, anche scritto a dieci mani, proprio un vero e proprio romanzo, nel senso che adesso dicevi prima, non fai la domanda, ma per spiegare che in generale è un romanzo, non sono racconti, non ci sono divisioni tra gli autori. Noi siamo un collettivo di autori che lavora per suggerire, proporre storie, soprattutto e trame a livello televisivo e cinematografico, ma a un certo punto siamo incappati in questa storia e ci siamo resi conto che raccontare il mondo soprattutto degli adolescenti in fuga si ficava a raccontare una storia negata e le storie negate sono quelle che raccontano i noiristi. In questa società tutta una serie di storie non vengono raccontate. Lo strumento del noir è proprio estraordinario perché ti dà la possibilità invece di farlo, usando appunto la letteratura di genere e quindi ci siamo resi conto che potevamo scrivere una storia molto potente perché come sempre siamo partiti da un'indagine e quindi abbiamo indagato. Magari questo parliamo dopo. Quello che invece per rispondere alla tua domanda ci siamo trovati di fronte a una grandissima difficoltà di raccontare una storia che proprio non è nemmeno ascoltata perché sostanzialmente non c'è spazio per raccontare questo tipo di storie. Che Italia ci siamo trovati di fronte? Ci siamo trovati di fronte l'Italia che guardiamo tutti i giorni, è una società profondamente in crisi, profondamente malata, che non è in grado in nessun modo di dare risponde ai giovani. Youthless, perché youthless? Perché non c'è futuro. Questa società non è in grado di dare futuro ai giovani. Quindi noi abbiamo usato una situazione apparentemente estrema che è quella dei ragazzi in fuga. Ce ne sono moltissimi, non solo in Italia, è un fenomeno a livello mondiale, ma a livello europeo è interessante. Per esempio in Italia a fuggire sono soprattutto... Noi ci siamo occupati delle ragazzine in fuga, delle adolescenti, perché è un discorso particolarmente dolente rispetto alle cause che provocano questo. Ci siamo resi conto che per esempio la maggior parte sono straniere. straniere, molte vogliono tornare al paese di origine, ma che qui non riescono a inserirsi in nessun modo e vogliono tornare, tra virgolette, a casa. Ma ci sono anche moltissime ragazzine italiane che fuggono. In generale, alcune tornano, alcune vengono ritrovate, alcune scompaiono. Quando ci siamo resi conto che i siti ufficiali davano dei numeri completamente diversi l'uno dall'altro, abbiamo cominciato a indagare. Abbiamo scelto tre filoni di indagine che sono i dati rispetto ai casi delle ragazzine che fuggono da casa, i flussi migratori, soprattutto la rotta balcanica, e i carceri minorili. Carceri minorili è un'altra storia negata. Sono raccontati pochissimo in questo paese. È una situazione drammatica per i giovani, per i minorenni che finiscono. E anche lì non c'è futuro, nel senso che non c'è alternativa. Poi c'è questo passaggio perenne dal carcere minorile al carcere per adulti. Il carcere per adulti è una sorta di università di perfezionamento al crimine, quindi l'impossibilità anche di reinserirsi e, voglio dire, potersi giocare la vita in altro modo. Noi abbiamo indagato su questi tre filoni, abbiamo raccolto il materiale che poi abbiamo trasposto in uteles. Nel noir il crimine è una scusa. È una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno. E quindi quello che raccontiamo, quello che ci interessa è raccontare l'Italia di oggi. Noi raccontiamo l'Italia di oggi e le sue contraddizioni attraverso due aspetti. Uno è questo romanzo di formazione delle ragazzine, dall'altra l'incapacità delle statue, delle istituzioni, del mondo degli adulti di rapportarsi a loro. Grazie. Un altro sentimento che permia un po' tutte le pagine di questo libro è un po' il senso della sodditudine. Perché comunque tutte le protagoniste per quanto scelgano di compiere questo viaggio insieme stringendo anche un rapporto di amicizia anche molto profondo in alcuni casi più che in altri però sono sostanzialmente delle ragazze sole. Ma come sono anche soli gli altri personaggi che costellano la trama di Youthless? Una solitudine che dal mio punto di vista non va invece come dire confuso con l'individualismo individualismo che invece si nota e viene descritto da come dire gli antagonisti di questa storia che senza alcuna remora come dire perseguitano queste sei ragazze. Secondo te il sentimento della solitudine accomuna la nostra società? La solitudine è un problema trasversale alla società noi abbiamo iniziato a lavorare prima a raccogliere i dati a ragionare sul romanzo prima della pandemia è stato voglio dire un percorso molto lungo questo questo romanzo e ovviamente abbiamo anche registrato quello che è successo i giovani durante la pandemia è stato un aggravamento della situazione proprio di vita personale dei giovani in maniera estremamente drammatica però pandemia a parte la solitudine da tempo è un è un problema che attraversa in maniera trasversale la società e a cui è difficile dare una risposta questa società tende a produrre solitudine per mille motivi perché più stai solo meno sei pericoloso socialmente anche quindi tutti i momenti di aggregazione non a caso tutti i momenti di aggregazione in qualche modo vengono voglio dire mal tollerati da questa società perché perché preferiscono una società dove l'individuo vive all'interno di una sorta di gabbia stia lì buono e tranquillo e produca fino a quando non va in pensione e poi crepa questo quindi la solitudine noi abbiamo fatto un lungo ragionamento sul discorso della solitudine perché dovevamo evidenziarlo all'interno della narrazione ma anche trovare dei momenti di rottura rispetto alla solitudine e determinare un percorso interno a queste ragazzine di crescita e non a caso non a caso il personaggio che rompe su questo è Lea la francese che viene dai centri sociali francesi ha un'esperienza quindi ha un'esperienza politica ha una visione politica di quello che sta accadendo a queste ragazzine e qui possiamo dire due cose di trama cioè arrivare fino a pagina 2 e dire che queste ragazzine se lo dici tu va bene sono io che non devo spoilerare no no ma non si spoilera nulla nel senso che la storia di un gruppo di ragazzine che si nascondeva in un casolare delle colline di Vittorio Veneto lì vengono stanate da due poliziotti molto particolari e succede qualcosa alla fine un poliziotto muore e loro devono fuggire da nord a sud abbiamo anche lì invertito la rotta della fuga perché sono ricercate per aver ammazzato un poliziotto e quindi voglio dire è una situazione molto molto difficile e complessa ci hanno 17 anni quindi il mondo cade loro addosso già vivevano una situazione complicata perché è un infuga però questa situazione le obbliga anche a rapportarsi tra di loro a confrontarsi a trovare anche dei momenti forti di amore di amicizia per riuscire a risolvere questa situazione e diventano un gruppo e solo questo gruppo riesce in qualche modo a tenere testa a un intero paese che in realtà le vuole morte le vuole catturate le vuole allergastolo sappiamo bene cosa succede in questo paese nella relazione tra mass media e social quando accadono episodi insomma di un certo tipo succede esattamente questo però loro crescono all'interno di questo percorso quindi rompono il discorso della solitudine perché capiscono che è un momento fondamentale della loro crescita e della loro sopravvivenza prima appunto raccontavi come avete raccolto tutta una serie di dati per scrivere questo libro e come avete scovato vado? ok come avete scovato queste storie e come vi siete come dire ispirati c'è una cosa che mi ha colpito mi ha colpito molto ossia che tutti i capitoli sono intermezzati da un racconto in prima persona di queste di queste ragazze e quindi volevo chiederti in questa scrittura a dieci mani come è stato immedesimarsi nelle parole di una ragazzina adolescente che racconta il suo punto di vista rispetto a quello che sta succedendo in quel momento o che l'ha portata a intraprendere questa fuga guarda noi abbiamo scelto sei casi veri che non hanno avuto soluzione che dopo anni non hanno avuto soluzione cioè queste non sono state ritrovate e quindi abbiamo voluto lavorare in qualche modo per ridare storia fisicità a queste a queste ragazzine che sono scomparse e non si sa dove siano finite e abbiamo fatto un lungo lavoro di costruzione del personaggio raccogliendo anche frammenti di notizie rispetto al prima no sui motivi perché sono fuggiti eccetera eccetera e quindi abbiamo lavorato in questa direzione e quando scrivi un romanzo e costruisci i personaggi a un certo punto entri in sintonia col personaggio cioè ce l'hai in casa ce l'hai a fianco alla scrivania mentre scrivi e noi abbiamo fatto questo lavoro però a livello collettivo nel senso che alla fine avevamo sei personaggi che giravano per le nostre case con cui avevamo un rapporto molto intenso e alla fine abbiamo fatto una scelta ben precisa che ognuna di loro si raccontasse all'interno di quel racconto ci sono dei frammenti di realtà che abbiamo raccolto rispetto alle loro storie pregresse grazie nell'opera si si legge anche un un intento di denuncia sociale nei confronti della corruzione che purtroppo raggiunge tutti tutti gli ambiti in questo caso e in questo libro il nemico sono le forze dell'ordine ecco io dico una cosa che personalmente penso non credo alla narrazione delle mele marce non credo al singolo che sbaglia penso che sia proprio un sistema basato sul potere che non che non funziona e lo dico anche perché oggi a Padova c'è stato un corteo per ricordare e chiedere verità e giustizia per Hussama Ben Reckba che è un giovane ragazzo tunisino che ha trovato la morte qualche settimana fa annegando nelle acque del Brenta e secondo diversi testimoni lui stava proprio fuggendo dalla polizia quindi partendo da per tornare al libro partendo da questo episodio che è narrato che è narrato in Youthless ti chiederei se quello che scrivete e raccontate è un dato meramente scenico di finzione oppure se c'è del vero anche ora no guarda il noir italiano molto più che altri noir a livello europeo sta raccontando i meccanismi di corruzione ma anche di perversione di violenza all'interno delle forze dell'ordine è un discorso che abbiamo iniziato e abbiamo continuato a farlo a partire sempre dal reale tu devi tener conto che un noir parte sempre da un'inchiesta da un'inchiesta a un'indagine perché il patto che il noir ha col lettore è caro lettore io ti racconto una storia che è un romanzo ma all'interno di questo romanzo ci sono tutta una serie di dati che io come autore ti fornisco perché così ti faccio un'idea e non a caso scegliamo storie negate perché abbiamo scelto questo allora i due poliziotti che sono coinvolti sono due predatori sono due predatori sessuali allora se noi andiamo a vedere la storia e la cronaca per esempio della rotta balcanica vediamo che un sacco di adolescenti parecchie un bel numero di adolescenti scompaiono il campanello d'allarme sono stati gli atti di violenza inennarrabile delle vaghe polizie di frontiera nei confronti dei migranti c'è raggiunta voce anche di scomparsa di adolescenti allora i primi che hanno la possibilità di far sparire la gente sono i predatori in divisa e quindi i predatori in divisa ci sono esistono ci sono un sacco di storie anche di processi a livello europeo quindi esiste questa realtà il problema è che non esiste una narrazione organizzata di questa realtà e invece il noir fa esattamente questo cioè organizza all'interno della narrazione una serie di temi li racconta perché questo è estremamente importante sfruttando anche quelli che sono le possibilità che l'editoria offre per esempio la casa editrice di questo romanzo che fa un'accusa estremamente precisa è HarperCollins HarperCollins è Mardoch cioè la destra americana che non si accorge che in realtà puoi pubblicare con loro una storia che racconta tutt'altro no perché è così che bisogna fare no bisogna sabotare l'immaginario che viene imposto attraverso una serie di operazioni questo è un tipo di operazione in cui noi per esempio crediamo molto perché vediamo che funziona perché arriva anche a fasce di pubblico che normalmente non sono abituati a sentirsi raccontare questo tipo di cose la corruzione la corruzione è diventata sistemica funziona perché lo vediamo nella realtà ma vediamo anche un cambiamento secondo me continuo nella relazione tra uso e azione le forze dell'ordine e le società mi pare evidente da quello che sta succedendo in questo paese poi voglio dire con questo governo vediamo in maniera molto chiara quello che è successo per esempio a livello gravissimo dei rave che non è solo la questione delle pene del rischio delle persone eccetera eccetera ma il fatto che la comunicazione abbia impedito totalmente abbia che dietro ai rave c'è un pensiero c'è una logica no? senza voglio dire disturbare Hacking Bay però voglio dire c'è teoria dietro no? e questo è stato completamente cancellato si vuole proprio creare una cesura da quello che sono determinati modi di rapportarsi alla società e quello che accade quindi le cose stanno cambiando ce ne siamo è stato citato prima Genova 2001 abbiamo visto che c'è stato un percorso ben preciso in questi vent'anni in questi ventun'anni ventidue anni anzi sono cambiate parecchie cose però devo riaffermo che il Noir Noir italiano ha raccontato questi passaggi allora visto che parliamo di Noir italiano vorrei un po' un attimo parlare dei tuoi Noir e degli altri Noir che hai scritto tant'è vero che c'è una cosa che mi ha sempre colpito leggendo i tuoi libri è il modo in cui racconti i luoghi e il background sociale dei personaggi come racconti la quotidianità le biografie tanto da rendere tutto molto familiare mi viene da pensare cito i libri della saga dell'alligatore che fanno vedere un veneto profondo che proprio leggendolo si staglia davanti ai nostri occhi e io ti chiederei è una domanda un po' diretta se è solo talento o se si tratta di una precisa ricerca stilistica e direi anche umana e politica domandona questo ma allora come dicevo prima il mio lavoro è sempre stato quello di ogni romanzo è un progetto è un progetto di narrazione che tiene conto del fatto di avere un'utilità il noir come dicevo prima la formula del noir è molto semplice ma è estremamente precisa cioè raccontare una storia criminale che si svolge in un tempo in un luogo è una scusa per raccontare tutto quello che accade intorno io sono arrivato al noir dall'esperienza sudamericana cioè a un certo punto mi sono ritrovato in sudamerica dove ho visto che la mia generazione che era uscita sconfitta da una serie di lunghissime battaglie politiche che sono costate sangue e galera in tutti i paesi del centro e sudamerica ha usato a un certo punto questo tipo di letteratura per continuare a fare politica in letteratura raccontando il passaggio dalle dittature alle democrazie blindate del sudamerica è stata un'operazione molto precisa ma anche molto affascinante dal punto di vista narrativo quando sono tornato poi in Italia e ho fatto un ragionamento su questo ho scritto all'inizio un romanzo il fuggiasco che raccontava sufficientemente autobiografico ma poi ho fatto un ragionamento e mi sono reso conto che era possibile continuare a occuparsi di politica attraverso la letteratura e quindi c'è tutto c'è la dimensione umana c'è la dimensione artistica c'è no ma il fatto di aver scelto una una strada una strada che mi ha portato non solo a scrivere romanzi ma anche a occuparmi anche di altre forme di scrittura dal teatro al cinema al fumetto però sempre esattamente allo stesso scopo devo dire che secondo me è un percorso che continuo a suggerire per esempio i nuovi autori quelli che si presentano perché significa attraversare il proprio tempo occupandosene no e comunque di avere uno sguardo lucido sulla società e che i tuoi romanzi possano avere un risvolto anche sociale per esempio quando ho visto prima entrando che nello spazio lettura c'era Perdas de Fogo no Perdas de Fogo è un romanzo che racconta all'inquinamento determinato da un poligono militare in Sardegna ecco quella è stata un'altra esperienza collettiva perché la gente del luogo mi ha chiamato dicendo non riusciamo a far uscire questa storia dalla Sardegna perché addirittura pensavano scrive un romanzo con l'alligatore che racconti questa cosa qui e invece il problema era capire no perché qual'era la vera causa di questo inquinamento determinato dalle esercitazioni belliche alla fine eravamo in dieci no è un romanzo scritto a venti mani ma perché per scrivere 160 pagine di romanzo abbiamo scritto 1200 pagine di inchiesta 1200 pagine di inchiesta che poi sono diventate la base anche di un ragionamento più complesso che ha portato a un processo perso contro i militari e adesso una situazione di sconfitta totale in quella zona nel senso che il nuovo assetto geopolitico rispetto alla guerra ma ben prima l'Ucraina ha portato a un rafforzamento della presenza militare in zona e quindi ha anche un rafforzamento anche dell'inquinamento perché si sviluppa però noi eravamo riusciti a scoprire la verità cioè a mettere il dito nella nella piaga perché avevamo scoperto che affittavano a 50.000 euro l'ora i lotti del poligono a società civili che producevano esplosivi che sperimentavano qualsiasi cosa e quindi è stata una scoperta che ha portato poi al processo l'abbiamo perso però insomma intanto è servito qualcosa riparto da appunto una cosa che hai detto prima ossia dei tuoi molteplici lavori che non è soltanto la figura di scrittore di noir tant'è vero che molti dei tuoi libri però hanno anche avuto una trasposizione cinematografica teatrale e televisiva e volevo chiederti visto che appunto sei autore di diverse cose come intendi il rapporto tra opera letteraria e arte visuale visuale allora cinema e televisione oggi soprattutto con il discorso delle serie tv perché il cinema nato è un po' in crisi saccheggiano in maniera sistematica la letteratura il romanzo non è ancora in libreria è già stato letto dalle case di produzioni ci sono già state le offerte le trattative esce che il libro è già stato i diritti del libro sono già stati venduti questo è ormai e funziona funziona così io credo sono sempre stato un sostenitore del tradimento cioè che sia necessario che se tu hai un romanzo vuoi farne un film devi tradire il romanzo perché i linguaggi sono così diversi così lontani che pensare di riprodurre in maniera proprio molto simile quello che è stato scritto è impossibile ma soprattutto è sbagliato esco recentemente da un'esperienza invece teatrale che ho scritto la riduzione teatrale di un romanzo la signora del martedì per l'adesio a Haber che volevano farlo a teatro è debuttato da poco ed è in tournée lì l'autore stesso ha tradito il romanzo perché devi farlo il tradimento è fondamentale perché tu devi mantenere l'idea principale che ha portato alla scrittura di un romanzo ma sul resto poi deve essere affidato alla sensibilità artistica di chi poi si impadronisce della tua storia è proprio vero che nel momento in cui tu cedi i diritti cedi anche il dominio rispetto a quello che hai prodotto quindi sei soddisfatto della trasposizione cinematografica dell'alligatore ah io sì sono molto soddisfatto anche perché lì ho partecipato sono stato il primo traditore di me stesso nel senso ma sì hai una una storia da raccontare hai un'opportunità di raccontarla in maniera in maniera diversa lì abbiamo voluto mantenere i personaggi l'idea di personaggi trasgressivi cioè l'ex detenuto il bandito e il blues e raccontare però per poter raccontare il Veneto di oggi e voglio dire infatti non hanno più fatto la seconda stagione ma alla televisione italiana è passato un discorso molto preciso su alcune relazioni di criminalità tra il mondo delle finanze il mondo della politica il mondo dell'emproditoria e la criminalità organizzata che non si era mai visto infatti adesso è finita lì però è stato bello negli ultimi anni il noir in Italia è molto cambiato è diventato molto meno di genere e quasi neorealistico scusate ho provato a dire questa parola molto spesso in privato ma non mi è riuscito come poetica secondo te questi cambiamenti sono dovuti al successo commerciale del noir che si è avuto anche grazie ad autori molto televisivi per esempio Lucarelli o segue un'evoluzione che forse abbraccia tutta la narrativa italiana legata al drammatico contesto storico che stiamo vivendo allora se guardando a quella che l'esperienza della letteratura di genere in Italia soprattutto al noir vediamo che c'è stata una spaccatura verticale all'interno del mondo degli autori nel senso che c'è stata proprio una spaccatura politica alcuni che sono la maggioranza hanno scelto di raccontare un certo tipo di Italia però con una visione consolatoria e con un profondo senso istituzionale cioè con la vittoria del bene sul male determinato dallo Stato no una parte minoritaria di autori ha invece deciso di continuare a mettere in evidenza le contraddizioni no e quindi di non essere consolatori perché non c'è nulla di cui essere di cui consolarsi ma di continuare a raccontare le trasformazioni criminali e la relazione tra quello che è fondamentale cioè in Italia vige un sistema vuol dire ormai la mafia non ha più bisogno di ammazzare nessuno perché c'è questo sistema le mafie sono diventate partner economici che funzionano e qui in questo territorio una trentina anni fa è nato una sorta di sistema legato al riciclaggio che ancora oggi funziona che si è voluto adesso il discorso è molto lungo secondo noi secondo quegli autori che non hanno accettato questa visione legata a una visione vittoriosa dello Stato nel confronto della criminalità è proprio questo che bisogna raccontare bisogna raccontare le contraddizioni ed è fondamentale continuare a raccontare la società attraverso le trasformazioni criminali e quindi raccontare tutto quello che ci sta intorno dal lavoro nero al caporalato al commercio dei rifiuti esattamente bisogna andare in quella direzione tenendo conto anche di come l'individuo sta vivendo oggi all'interno della società ieri prima nel penultimo presentazione si è detto una cosa molto importante cioè di quanto si è infelici quanto è difficile vivere all'interno di questa società ecco il noir da sempre si occupa di questo di raccontare attraverso anche figure estreme però la condizione che vive l'individuo all'interno della società quindi oggi in Italia c'è questa spaccatura che è una spaccatura politica che però interessa solo il mondo degli autori e dei lettori che scelgono chi leggere la cosa incredibile è che il mondo dell'editoria non è interessato a questo nel senso pubblicano qualsiasi cosa perché perché va detto che questo tipo di meccanismo è stato assorbito non è più così pericoloso e quindi è stato assorbito magari non ti fanno fare la seconda stagione magari non ti invitano mai in televisione per presentare nelle trasmissioni quelle che ti fanno vendere un pack però da un punto di vista editoriale c'è una scelta di dire assorbiamo qualsiasi cosa e quindi si crea una relazione non voglio essere lungo ma si crea una relazione tra autore e lettori che è una relazione voglio dire dove si costruiscono anche dei percorsi di approfondimento di conoscenza faccio una domanda un po' un po' personale forse anche un po' un po' frivola però mi è venuta in mente mentre mentre preparavo questa questa presentazione tu hai scritto diversi libri hai scritto diverse sceneggiature qui siamo a Padova ed è una città che da diversi anni quasi 30 ospita un festival musicale lo Sherwood Festival tanto è vero che vi invito tutte e tutte ad esserci anche a questa edizione del 2023 che inizierà il 14 giugno tu hai mai scritto una canzone? ne ho scritto un paio ne ho scritto un paio sono in un disco di Ricky Gianco e sono veramente un cane a scrivere canzoni cioè sono proprio sono pessimo mi vengono fuori malissimo però quelle ne ho scritte tante ma quelle due mi sono venute fuori bene e voglio dire sono Ricky Gianco il mio caro amico per cui credo che per pietà insomma per amicizia le abbia messe però sono veramente pessimo torniamo al romanzo in questione Youthless Fiori di strada il finale è aperto ci aspettiamo un seguito guarda nel Noir il finale è sempre un po' aperto perché ci sono due regole fondamentali il primo è non uccidere mai i personaggi seriali perché poi ti tocca farli risuscitare e la seconda tieni sempre un po' aperta la storia perché non si sa mai e quindi per questo in questo caso allora abbiamo ci abbiamo messo un sacco di tempo a scrivere il romanzo a raccogliere il materiale e avevamo l'idea di scrivere il secondo e avevamo il materiale la guerra in Ucraina ha completamente scompigliato perché c'era oggi dopo la guerra in Ucraina una tale massa di persone in giro per l'Europa soprattutto adolescenti che partono dall'Ucraina non riescono ad arrivare c'è una situazione veramente complicata oggi bisognerebbe riprendere indagare di nuovo non lo so siamo in cinque ognuno ha i propri impegni io ho contratti per tre romanzi non lo so egoisticamente spero che ci sia un seguito perché mi ha abbastanza appassionata come come storia io ti ringrazio tantissimo Massimo Carlotto grazie grazie a tutti voi e tutte voi di essere stati qua grazie a tutti grazie a tutti